Buonasera a tutti da casa di Luca by Night con Luca e... Alessandro, eccoci qua! Eccoci qua dalla... Dalla California ovviamente, infatti qua dietro stiamo facendo delle gran notate nell'oceano. E noi questa sera presentiamo un dolce molto semplice però anche con qualcosa di sfizioso, giusto Ale? Eh sì, un dolce proprio tradizionalissimo che mangiavamo a merenda quando eravamo piccoli ma che piace tanto anche ai grandi. Allora, una torta di mele aromatizzata ovviamente con il limone ma anche con il rosmarino, pensate voi. E andiamo a vedere nel particolare cosa serve per fare questa torta di mele. Allora, eccoci qua! 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 Eccola, guardate! Allora, la torta è pronta quando si stacca proprio perfettamente. Vedete che è staccata? Questo è lo zucchero che si è leggermente caramellato, adesso facciamo raffreddare un altro po'. Beh, com'è questo profumo Ale? Mamma mia, ma guardate soprattutto il colore meraviglioso, insomma, com'è venuta, tutta bruna, stupenda, al zucchero sopra che si è un po' caramellato. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Eccola qui, vedete? E' ancora fumante, ragazzi, quindi, insomma, è un po' mordina per questo, ma mi pare proprio molto, molto buono. Complicato stavolta, ti è piaciuta, eh? Sì. E Luca e Ale? Vi augurano un buon appetito, appunto, e buona torta di mele. Ciao a tutti e alla prossima! Ciao a tutti! Ciao!